Benvenuti ai nostri cari follower. Quindi prima di entrare nei dettagli lo faremo capire a tutti che questo video non vuole spaventare la gente. È solo un monito affinché tutti si preparino a questa tempesta per evitare eventuali disastri dovuti al maltempo. Spero quindi che tutti voi condividiate questo monito con quanti più italiani possibile. Grazie. Quindi l'ultimo aggiornamento del modello europeo odierno si riferisce all'arrivo del potente temporale in Italia. Nello specifico verso le regioni settentrionali dell'Italia, a partire dalla tarda notte di domani, domenica 27 agosto 2023. Ma questa tempesta inizierà solo nell'estremo nord e nella tarda notte di domenica, come ho detto. Poi, con le prime ore della mattina di lunedì 28 agosto, questo temporale comincerà a svilupparsi rapidamente e pericolosamente. Entrerà in tutte le regioni settentrionali d'Italia da est a ovest, senza eccezioni. Colpirà violentemente anche la Sardegna. E poi questa tempesta continuerà a ruotare in senso anti-orario e colpirà con forza anche le regioni centrali dell'Italia. E poi si unirà gradualmente alle regioni meridionali, con il passare delle ore. Ma questa tempesta sarà più potente al nord e al centro in particolare. Ciò avviene soprattutto nella mattinata di lunedì. E questa tempesta si verifica non appena raggiunge il bacino occidentale del Mediterraneo e le coste della regione dell'Aguria. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso uragano, accompagnato da venti molto forti, con velocità che superano la barriera dei 130 chilometri orari. Con forti quantità di pioggia, un notevole abbassamento della temperatura e forti precipitazioni con grossi chicchi di grandine. Questo soprattutto lunedì, dove saranno tutte le regioni del nord e del centro Italia, davanti ad un'ammunizione rossa. Pericolo di questo forte uragano, che porterà tempo molto brutto in Italia. Questa tempesta continuerà fino alla fine di agosto, e porterà con sé grandi quantità di pioggia che si avvicineranno o supereranno la barriera dei 300 millimetri come tasso di accumulo. Lunedì mattina tornerà anche la neve verso le altissime vette alpine, che superano i 1800 metri di quota. Nello specifico le zone di confine con Francia, Svizzera e Austria. Quindi sono solo pochissime ore, la tempesta raggiungerà l'Italia. Quindi preparatevi e cercate di evitare di uscire di casa, soprattutto il lunedì mattina, perché lunedì il temporale sarà più forte, come hai detto tu. E dettagli più accurati riguardanti questa tempesta e le specifiche aree interessate ve li forniremo nel prossimo video. Finalmente sei in buona salute.